buon pomeriggio ragazzi e bentrovati ancora con fabrizio ferri il vostro analista tecnico dei mercati delle cripto valute allora in questa analisi voglio andare nel dettaglio su una cripto che sto seguendo da un po di giorni perché altro perché va di moda ecco non tanti mi hanno richiesto analisi e quant'altro io mi sono un pochettino fatto trasportare come vedete feci un'analisi poco tempo fa dove avevo indicato una zona interessante come questa aria diciamo di resistenza oltre la quale si sarebbero andati a rialzo abbiamo toccato questo questo punto qui che era un mio massimo indicato e questo rappresenta il prossimo massimo per quello che riguarda eventualmente la ripartenza di bit torrent tolgo queste frecce che sono ormai roba vecchia ma lascio tutte le varie trend line allora bit torrent in questo momento specifico proprio si trova in una fase discendente quindi il trend sta a ribasso in poche parole non sul lungo periodo ma sul breve periodo quindi ecco se uno dovesse fare un investimento per due tre giorni in questo momento specifico siamo in un trend ribassista cioè quel supporto lì abbastanza evidente con marcato a 0.0063 che rappresenta una quota una vera discriminante sotto la quale potrei addirittura immaginare un bit torrent ancora più spinto verso verso minimi ovviamente sempre relativi ma al momento devo essere onesto voglio un zoomare un attimo il grafico e farlo in quattro ore guarda un po in quattro ore allora ci sono dei supporti delle resistenze che ovviamente si rimarcano anche sul time frame daily perché giustamente il quattro ore unità è molto ampio ma vediamo un attimo cosa sta combinando sta provando a spingersi oltre questi massimi qua oltre 76 ha provato proprio ieri ha fatto 75 ma non è riuscito a dare la giusta forza adesso sta mentre si sta mantenendo in questa zona qua che è una zona supportiva molto forte dalla quale praticamente ha dato è ripreso il trend seppur sul breve periodo di bit torrent tu guarda qui rompe la resistenza in questa zona qua poi va su e si appresta o meglio fa questo massimo a 0.0090 e poi riscende giù tornando in un trend veloce ribassista momentaneamente io diciamo così vedo comunque un'opportunità nel senso che questo scarico di bit torrent potrebbe essere sul lungo periodo un'opportunità perché di sicuro acquistarlo a 0.90 0.99 ma personalmente poteva essere comunque un azzardo già acquistarlo qua 0.75 poteva essere interessante poi ovviamente uno non ha la palla di vetro quindi c'è anche un trend c'è anche un mercato che si muove in maniera a volte abbastanza veloce come soprattutto questo delle criptovalute e tocca il minimo qui minimo sul 42 0.0042 che ovviamente diciamo è beato a chi a chi lo ha acquistato in questo punto qua questo era un punto anche abbastanza tra virgolette rilevante cioè nel senso magari acquistarlo a 40 a 49 50 era più logico e non a 42 anche perché poi ci saremo trovati contro un mercato che stava scendendo ma andiamo adunque per quello che riguarda bit torrent secondo me al momento vi traccio questa bella trend line rialzista per dare anche ottimismo a chi ci ha messo qualche spicciolo eccola qua ci sono questi minimi che sono comunque crescenti che dimostrano una spinta al rialzo però prestiamo attenzione perché quando la rompesse sotto questi minimi qua potremmo rivedere comunque un bit torrent su livelli più bassi oggettivamente i volumi ribassisti non sono così forti sono molto più importanti poi la rialzo questo scarico denota secondo me prese di beneficio per chi fa trading rapido quindi per chi fa trading intraday piuttosto che due tre giorni ma queste sono cose un po' più tecniche che non voglio ammorbarvi nello spiegarvele quindi la mia visione ancora è fortemente rialzista su bit torrent quindi questi scarichi non mi preoccupano anzi assolutamente quando perdo un po' di intensità vedo un'opportunità in questi momenti particolari perché comunque potrebbe essere proprio il modo più opportuno per operare come al solito io vi ricordo questi non sono consigli finanziari ma è la mia visione sul grafico diciamo del mercato che sto trattando perciò prendetelo tutto come uno spunto didattico per imparare e migliorare la vostra applicazione da un punto di vista proprio prettamente tecnico quindi abbiamo un bit torrent che è in fase rialzista sul breve periodo sul lunghissimo ancora rialzista vediamo un po' come si mette questa cripto se ci darà soddisfazioni oppure no parlo al plurale e mi ci metto dentro il periodo perché comunque qualcosina così per gioco ce l'ho messa sola perciò è qui giusto per tenervi informati vediamo un po' come si mette quindi staremo a vedere questa ragazzi cripto ad altissima volatilità altissimo rischio perciò sites ma non piccole di più comunque iscrivetevi al canale e non dimenticate che c'è la possibilità di acquistare lo sconto per studiare quindi per applicarvi e studiare le criptovalute e analisi tecnica su bitcoin non soltanto perché ovviamente poi c'è tutta la parte legata al discorso delle alte cripto perciò vedrete nel percorso didattico anche la risk management, money management ci sono tutte le tecniche da applicare sul grafico per essere il più possibile pronti e preparati prima di entrare sui mercati senza avere strumenti quindi un minimo è meglio farseli è in sconto fino al 15 di maggio a 199 euro per chi poi volesse acquistarlo dopo il 15 di maggio il prezzo sarà leggermente più alto 269 considerate una cosa molto importante questo corso che ho fatto è un corso vivo quindi cresce con i mercati aperti non è un corso teorico e basta fatto da libro ma è un corso che realmente offre spunti per capire come andare a dobbare sul mercato su un time frame comunque ampi perciò senza stressarci troppo con time frame rapidi che sono per esperti ma è un corso basi per applicare appunto queste tecniche che sono molto interessanti quando si va poi ad operare sui mercati reali insomma iscrivetevi e per qualsiasi info giù in descrizione c'è il link dove potete praticamente anche scaricarvi l'ebook che l'ebook è gratuito quindi senza nessun impegno ciao e alla prossima analisi